Vi posso anche dare una buona notizia che finalmente dopo 5 giorni dall'inizio della situazione emergenziale, noi come Regione Lombardia, non avendo avuto molto riscontro da altri poteri dello Stato, siamo riusciti ad acquistare 4 milioni di mascherine e di presidi medici ai nostri medici, ai nostri infermieri, a tutti coloro che si occupano di curare i malati perché abbiamo a cuore la salute di tutti i nostri cittadini e in questo momento la salute dei nostri medici che si stanno impegnando in maniera eccezionale. Diciamo che fortunatamente questo problema è stato risolto, è stato risolto in casa, ma va bene così.